ciao amici benvenuti nel mio canale oggi i detersivi finiti del mese ne ho finiti un po devo dire ho fatto un bel po di cose ho fatto tanta pulizia a noi donne ci tocca cominciamo col primo il mio dixan d'avattrice finito ottimo non c'è nulla da dire questo è veramente ottimo poi il coccolino coccolino orchidea viola e mirtilli anche questo a me piace tantissimo mi piacciono veramente tutti i punk della coccolino perché hanno diverse fragarze e mi trovo molto bene con queste sicuramente ho finito l'omino bianco per sempre per la lavatrice per i capi bianchi con l'omino bianco devo dire che il risultato si vede ed è sempre ottimo ho finito l'acee l'acee detersivo igienizzante nei colorati anche questo a parte che io lo metto anche nei bianchi voglio mettere con i capi bianchi l'acee lo metto colorati e bianchi e con che con questo mi trovo molto molto bene ho finito anche questo è molto buono l'enor concentrato ammorbidente ametista e bucchè fiorito lascia un profumo e morbidezza se non l'avete mai provato provatelo perché devo dire che è veramente ottimo poi ho finito ancora un bagno schiuma non c'entra niente con i depressivi ma ho finito anche questo della dulgon aromatherapy qui c'è scritto anti età l'ho usato tutto ma l'età ce l'ho sempre sempre anche questo comunque mi sono trovata bene l'anti calcare dell'eserunga l'anti calcare valido molto buono questa volta tutti i prodotti ottimi e l'acee gentile anche l'acee gentile finita anche questa e anche con questa colorati e delicati la uso sempre vi ringrazio di aver guardato il video un like se vi è piaciuto mi raccomando seguitemi non lasciatemi sola e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora niente iscritti e vi saluto ciao alla prossima ciao